seconda gara del torneo cascate di Yoshi vai seleziona l'ale ok pronti a partire vediamo come andrà questa volta mamma mia si andrà proprio qua eh ho visto che io vado giù di sicuro per quella cascata è proprio davanti pronto? sono in pole position io no ho fatto una partenza lentissima perché sono nati tutti di là? io sono nato per il ponte e quelli si sono buttati giù ho preso una bella bomba ah eccoli che sono tornati su la lascio indietro dovrebbe essere scoppiata una bomba addosso a qualcuno ho spedito fuori Todd no una banana super velocità no mi ha colpito un gusso verde ho baby mario davanti potevo colpirlo visto che sono bosse che sono grande e grosso sembra facile questa pista oh sono quarto no un'altra banana bomba il gusso rosso ma chi lo ha no mi sono salvato ho lanciato un gusso rosso mi ha colpito baby mario no 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 noooo no sei caduto dal cascato io ho il terzo giro e sono quinto al momento ho Todd davanti e Baby Peach uh ho scrivato no no però prendo un prezzo un'altra banana ma è la terza ma no cosa non è successo ma che sono nono uh mi pareva di essere Don Kilkong da quante banane ho mangiato dai 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 Ale recupera posizioni dodicesimo vediamo i punti che abbiamo preso schiaccia che vediamo i punti totali delle squadre noi siamo i rossi ricordiamo 48 a 98 mamma mia siamo sotto vediamo la terza gara come sarà in capire in capire in capire